buonasera mi chiamo ivan di orgi sono il figlio di franco l'erede della barge lateria ercole di pizzo e come ben vedete oggi 14 luglio vedrete la piazza che sta molto crescendo di a livello turistico dove i miei tavolini ringraziando dio possiamo dire che stiamo iniziando la stagione 2021 niente che vi devo dire vi aspetto a tutti a braccia aperte per poter passare una buona vacanza qui a pizzo e a gustare sia il tartufo che tutti i nostri prodotti tipici calabresi che abbiamo in bocca al lupo e buona sera da tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti